Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati a Cuscito Ergo Sum, un benvenuto al nostro creditissimo ospite, professor Fulvio delle Donne, docente di letteratura latina medievale e umanistica presso l'Università della Basilicata, nonché autore di diversi testi, diverse pubblicazioni, sia monografie sia articoli, proprio su Federico II, qui vediamo l'ultimo suo libro, La Porta del Sapere, cultura alla corte di Federico II di Sveglia, in cui ho trovato un leggerissimo cenno alla menzione di alcune teorie da cui il professore prende le distanze, in cui in effetti mi ero imbattuto anch'io da ragazzino, chi mi segue sa che il motivo per cui ho aperto questo canale è proprio quello di fare chiarezza tra cosa è storia e cosa è pseudostoria, quindi cosa viene spacciato per storie quando in realtà sono opinioni del tutto personale. Chi si occupa di storia della Puglia, comunque i pugliesi appassionati di storia, non possono non imbattersi sia in Federico II e sia nel suo castello più celebre, insomma Castel del Monte, che è il territorio di Andria, sia su Federico sia sul castello sono state dette veramente, c'è stato detto di tutto, qualsiasi cosa che è venuta in mente a chiunque, a chi che sia. Quindi appunto facciamo chiarezza e quindi partirei con la prima domanda, insomma, chi era Federico II? La solita bella domanda a cui è difficile dare una risposta. Allora Federico II naturalmente credo che lo sappiano tutti, è imperatore, è stato imperatore. Attenzione alla definizione imperatore del Sacro Romano Impero, eccetera, una definizione abbastanza imprecisa, imperatore, imperatore, diciamo appunto, imperatore medievale. Ecco, è un imperatore che ha però una tradizione molto complessa, una tradizione che viene appunto da parte di padre dalla Germania, da parte di madre dalla Sicilia e naturalmente poi si fondono in lui tutta una serie di tradizioni culturali molto complesse, non solo create all'epoca, nell'epoca in cui era franciullo e viveva a Palermo e appunto aveva la possibilità di entrare in contatto con tante culture differenti, quella araba che ancora dominava, anzi più che araba, quella musulmana, islamica, quella che ancora dominava. Poi naturalmente quella nordica, quella appunto dei normanni, quella tedesca naturalmente, ma poi appunto anche tutta la tradizione francese o appunto provenzale che poi dà origine a tutta la letteratura anche italiana, poetica italiana e poi c'era la cultura latina importante, importantissima, e la cultura greca. Insomma, in un mezzogiorno d'Italia di cui la Sicilia era l'emblema più, diciamo, evocativamente più efficace, insomma, l'Italia meridionale era il centro del mondo, potremmo dire l'ombelico del mondo a cui tutti aspiravano, tutti desideravano, tutti purevano. Quindi appunto imperatore, ma anche re di Sicilia, quindi contiene in sé questa doppia tradizione, questa doppia caratterizzazione che non è mai isolata. Autore di cose straordinarie, ma appunto cose straordinarie come ricordo semplicemente la fondazione dell'Università di Napoli nel 1224, probabilmente la cosa che ha avuto maggiore successo in assoluto tra le sue azioni. Ha fatto tante cose, ma non ne ha fatte altre, ecco, che invece solitamente gli vengono attribuite. Personaggio straordinario, non c'è bisogno, ha fatto delle cose davvero straordinarie, non c'è bisogno di attribuirtene altre che non ha fatto, altri significati reconditi o esoterici di tutte le azioni che ha fatto, ecco. Esatto, esatto. D'altronde è stata una figura, come lei scrive nel libro, e come insomma si sa, era stata una figura estremamente controversa. Già ai suoi tempi c'è chi lo considerava quasi un secondo messia e c'è chi lo considerava un anticristo. Ancora adesso, insomma, c'è chi lo idolatra. Però c'è chi, per esempio, in Lombardia non hanno tanto… che l'idolatria è un po' un fenomeno, secondo me, meridionale, perché in Lombardia, per esempio, come mostro un libro di un giornalista che ha fatto un'inchiesta su Federico II, ha mostrato che questo culto di Federico, questa mitizzazione coeva, insomma, noi contemporanea, è una cosa tipicamente meridionale, soprattutto pugliese. Soprattutto pugliese. Probabilmente il libro è quello di Marco Brando, che ne ha fatti due, questo credo che sia, se riesco a vedere bene, il primo, poi ne ha fatto un altro, credo, un anno fa. E appunto si è indagato il fenomeno, diciamo, di un Federico II pop, possiamo dire, appunto, la mitizzazione popolare, eccetera. Mi ricordo che qualche anno fa ci fu anche un sondaggio di opinioni anche tra i tedeschi e quindi Federico II veniva sistematicamente innanzitutto confuso Federico II di Svega, ma il Federico II di Prussia, anche quell'imperatore di un'altra epoca e nessuno se lo ricordava perché appunto poi essendo, pur essendo imperatore, pur essendo gli imperatori di marca soprattutto tedesca, Germania non era tra gli imperatori più amati perché effettivamente in Germania ci aveva messo piede pochi anni. Ed è un personaggio però straordinario, ecco, appunto, come ha ricordato, sin da quando è nato, si dividono le anime tra quelli che lo esaltano, appunto, come il precursore, diciamo, come il rinnovatore di una nuova età, dell'età dell'oro, come un nuovo messia e quelli che poi lo condannano. Ricordiamoci rapidamente, giusto ricordo rapidamente che poi quando nasce addirittura si confondono tutta una serie di idee perché non poteva essere figlio di una madre, Costanza d'Altavilla, che oramai era già considerata troppo anziana, aveva 40 anni. Quando nasce Federico II, 40 anni all'epoca dovevano essere un'età avanzatissima, doveva essere una vecchia decrepita, infatti poi alcune fonti cominciano a far crescere l'età della propria Costanza, che arriva fino a 52 anni, fino a 55 anni, appunto, anche Boccaccio ricorda questa storia. Insomma, sono cose particolari, giusto per ricordare anche poi come sin dall'origine alcune cose vengono deformate. La famosa immagine di Federico II che nasce sotto una tenda, nella piazza di Iesi, è quella un'altra invenzione della storia, della storiografia coeva o quasi, perché poi è un'immagine che nasce almeno 50 anni dopo, serviva per l'immagine. Serviva proprio a contrastare l'affermazione che Federico II non poteva essere figlio di una donna così anziana, quindi non poteva essere il vero discendente dell'imperatore Enrico VI, di cui era il figlio. E quindi quale modo migliore, se non quello di rappresentarlo come nato pubblicamente, sulla pubblica piazza, perché non ci potesse essere motivo di contrasto. Insomma, l'hanno visto tutti, era nato sotto gli occhi di tutti, per forza doveva essere figlio di Costanza. E poi, questa è naturalmente una rappresentazione che si diffonde soprattutto poi in alcune zone d'Italia. Italia centro-settentrionale, lo ricorda Giovanni Villani, poi lo ricorda anche Boccaccio, abbiamo detto, accendono a questa cosa anche i commentatori di Dante, mentre invece in Italia Meridionale si diffonde un'altra immagine, sempre destinata alla stessa cosa, finalizzata alla stessa cosa, di una Costanza che va in giro per il regno a mostrare le sue mammelle. No, no, proprio le mammelle gonfie di latte, per dire che sono io la mamma. E che ho i segni evidenti. Una vecchia decrepita che mostra, anche da quella che viene rappresentata come una vecchia decrepita, che però mostra le sue mammelle gonfie di latte. E questo approfitto per rimarcare una cosa che, ripeto, fino alla nausea nel mio canale. Ancora una volta, sono ennesime dimostrazioni che non va preso automaticamente per vero ciò che è scritto in un testo. Uno storico, e proprio l'ultima cosa che fa uno storico è prendere un testo per oro colato. Deve analizzare criticamente quello che è leggere un testo, perché altrimenti dovremmo credere veramente che Federico sia nato sotto una tenda o che la madre sia andata in giro. Allora, però, in effetti, però, un po', devo fare un po' l'avvocato del diavolo, perché in effetti ha avuto una vita, anche rimanendo a ciò che è accertato storicamente. Ha avuto una vita, secondo me, quasi favolistica. Il fatto che i suoi genitori siano morti quando lui era ancora piccolo, è proprio un classico delle favole, che il protagonista è orfano. Nel caso di Federico è stato cresciuto proprio da un papa, ok, non letteralmente dal papa, però è cresciuto, insomma, non ha avuto un'infanzia normale neanche per gli standard dei nobili dell'epoca, giusto? Ecco, l'immagine di un Federico Scenerentolo, ecco, questa non me l'ero ancora fatta. È simpatica. No, va bene, allora, effettivamente ci sono anche lì tutta una serie di rappresentazioni appunto di un Federico, sempre tratte dalle fonti, perché dobbiamo partire da quelle, naturalmente si deve sempre partire dalle fonti, però naturalmente le fonti poi devono parlare, devono essere ascoltate nella maniera corretta, quindi bisogna contestualizzarle, bisogna saperle leggere ed è questa la cosa più difficile, perché naturalmente le fonti poi bisogna individuarle, bisogna dare un identikit corretto alla fonte, bisogna tracciarla correttamente. Ecco, c'è ad esempio una lettera bellissima che ci viene trasmessa poi in una raccolta epistolare degli inizi del 200 in cui si parla di Federico II che viene catturato dai soldati che scorrazzano, dai soldati tedeschi che scorrazzano per la Palermo dell'epoca, quando Franciullo è piccino, a 12 anni. E quindi Federico II che nel momento in cui lo catturano non sopporta le mani di questi personaggi infidi che appunto gli mettono le mani al bosso, si straccia le vesti perché non riesce a fare altro con le sue deboli forze, è un bambino, si straccia le vesti, con le unghie si dilania le carni appunto per manifestare così il suo ardore, il suo grande animo eccetera. Quindi un fanciullo che effettivamente è sottoposto, è sottomesso di fatto anche alla situazione dell'epoca, effettivamente rimane senza padre, rimane senza madre, senza la protezione della madre ben presto e quindi naturalmente in balia del primo che arriva. Diventa appunto il suo tutore, il Papa Innocenzo, il grande Innocenzo III, gli viene affidato dalla madre Costanza perché è l'unico che in teoria può proteggerlo. Io credo che Innocenzo III non lo abbia mai visto perché Innocenzo III poi muore nel 1216, credo che non si siano mai incontrati di persona perché non credo che ci sia stata l'occasione, però Innocenzo III era il grande Papa, il grande Papa che voleva governare l'intero Europa e quindi era effettivamente colui che si autodefiniva Verus Imperato, il vero imperatore, un Papa che si definisce così, con grande autoconsapevolezza anche del proprio ruolo che non è solo spirituale e quindi per affidarlo, affidando Innocenzo III il Papa Innocenzo III Costanza lo voleva salvare appunto da questa situazione complessa che era quella appunto della successione al trono. Quando muore un re, quando muore un sovrano, le successioni sono sempre complesse e delicate. A quell'epoca poi appunto Federico II già veniva da una dinastia dinastia che si era imposta, quella di Enrico VI, che si era imperiale, che si era imposta con una guerra civile. Quando scende Enrico VI c'è una guerra civile che dilania l'Italia meridionale e quindi sicuramente la situazione non doveva essere proprio agevole. Ed è questa immagine di Federico II cenerentolo, appunto come dire, che poi ha spinto anche questo un grandissimo storico come Ernst Kantorowicz a dare quell'immagine di Federico II fanciullo che vaga tra le strade, vaga liberamente come fosse una sorta di scugnizzo, si direbbero delle mie parti, che vaga liberamente per le città di Palermo, va nei mercati, quindi impara, impara nella scuola della vita come ci si comporta, ecco. Quindi è una caratterizzazione impressionante che però è fantasiosa, naturalmente. Dice che imparava le lingue mentre girava nel mercato, non sentiva l'arabo, sentiva l'ebraico, quello che è. E a proposito, a proposito, tra i motivi per cui è celebrato e secondo me anche mitizzato, però c'è qualcosa di vero, il fatto che lui ha una certa apertura verso le religioni diverse dal cristianesimo. Comunque aveva un rapporto conflittuale già col papato stesso, cioè un rapporto di amore e odio, perché da un lato è stato scomunicato più di una volta, dall'altro però ha fatto una crociata, però non cruenta, che poi lì... Quindi vogliamo dire qualcosa sul rapporto tra le varie religioni, cristianesimo, cioè tra Federico ovviamente e le varie religioni? Eh, poi anche questa è una bella domanda, ci potremmo passare le ore. Ecco, già appunto come diceva, con il cristianesimo c'è un rapporto, diciamo, non con la religione, ecco, più che col cristianesimo, con la religione cattolica romana, insomma in qualche modo, con il papato c'è un rapporto, come dire, abbastanza conflittuale. Allora, io ritengo che, questa poi è stata anche oggetto di dibattito lungo, complesso, anche alcuni anni fa, io ritengo che Federico II fosse assolutamente cristiano, non poteva non esserlo, assolutamente, non poteva non esserlo. Tra l'altro ricordo che nel momento in cui muore, secondo una notizia che ci dà Matteo Paris, o Matthew Paris, il cronista che poi ci dà quella definizione di Federico II come stupor mundi e di mutator mirabilis, una definizione su cui magari dopo torniamo, ma che viene sistematicamente confusa, ecco, ci racconta che Federico II nel momento in cui muore, si fa mettere il saio dei cistercezzi. Quindi, appunto, uno spirito appunto religiosissimo questo rappresenterebbe. Ovviamente, bisogna sempre vedere quanta attendibilità può avere, quanta attendibilità storica può avere anche questa notizia. C'è sempre, appunto, come dicevamo prima, bisogna saper porre i corretti filtri anche alle fonti. Non lo sappiamo. È possibile, è plausibile, ma perché rientrava anche in una tradizione culturale dell'epoca. Comunque, era uno spirito assolutamente cristiano. E, naturalmente, questo non esclude che potesse avere curiosità o potesse avere atteggiamenti di accettazione, di disponibilità verso altre culture e verso altre religioni, verso altri mondi. Era proprio questo il frutto, possiamo dire, più maturo anche della sua provenienza dalla Sicilia, da questo mondo, dalla Sicilia, inteso anche come intero regno di Sicilia. Attenzione. E quindi... Quindi tutta l'Italia meridionale, specifico per... Tutta l'Italia meridionale. Il regno dell'Italia meridionale. Era chiamato regno di Sicilia. Quindi la Sicilia indica non solo l'isola, ma tutto il regno. Ecco, però, anche quello non va mitizzato, abbiamo detto, perché ci sono rapporti, diciamo, amichevoli, ma anche rapporti, come dire, conflittuali. L'Italia meridionale, chi viveva in Italia meridionale aveva a che fare con la tradizione islamica, abbiamo detto, non poteva farne a meno. Con la tradizione ebraica, no? Perché poi anche in Italia meridionale aveva un centro importantissimo e quindi non se ne poteva fare a meno, no? Di avere rapporti con quella tradizione e anche con quella religione. E a volte, appunto, aveva rapporti, diciamo, ad esempio nel 1236, racconto questo brevissimo aneddoto, nel 1236, quando si trova in Germania, si trova anche a dover regolare un conflitto giuridico che era nato a fulda con la comunità ebraica. Gli ebrei erano stati accusati, come spesso capitava, erano stati accusati in quell'occasione di un omicidio rituale, una strage rituale di bambini e così via. Era una cosa assai consueta. E Federico II in quel momento fa però una cosa straordinaria, eccezionale. Convoca per dirimere la faccenda, convoca le persone più esperte dell'epoca e quindi anche poi dice i novizi, quelli che sono da poco passati dalla religione ebraica alla religione cristiana, perché i novizi sono quelli che poi hanno anche una visione più critica verso la vecchia religione, per decidere, per capire se è possibile che gli ebrei potessero fare effettivamente, avessero fatto effettivamente, compiuto effettivamente questo omicidio rituale. E dopo l'indagine scopre che non viene, appunto, che si scopre che non poteva, che non era vera la notizia. Però anche qui le cronache, ci sono diverse cronache che ci raccontano la vicenda. Se volete appunto quello trovate anche nel libro, appunto, ecco, in maniera più dettagliata, però ecco, ci sono diverse cronache che raccontano in maniera più o meno dettagliata, in maniera più o meno pausibile la vicenda. La cosa più bella è che a un certo punto, poi una delle cronache, ci dice che Federico II si fece pagare la multa dagli ebrei di Fulda e se ne liberò. Li liberò dall'accusa, però se ne andò anche carico di denaro. Ecco, questa è una delle cose, però anche con gli islamici, anche con l'islam, anche con, appunto, con la religione, appunto, con la religione maomettana. Non è che appunto poi il rapporto fosse diverso, naturalmente aveva rapporti, come dire, poteva avere rapporti amichevoli in alcuni casi, ma anche rapporti conflittuali in altri. Ricordiamo che comunque fa una crociata, una crociata per quanto priva, senza spargere sangue, per quanto, appunto, pacifica possa essere sempre una crociata era. Tutto sommato, sempre in armi era andato in terra santa per riconquistare alla cristianità un territorio in maniera più meno coatta, possiamo dire, per obbedire a un ordine papale che comunque di un papa che comunque l'aveva scomunicato perché non era partito. Però rammento che poi in Italia meridionale, in Sicilia, appunto, quando ritorna intorno al 1240 in Sicilia, comunque, va lì conquista anche tutti i capisaldi ancora islamici della Sicilia e che gli si ribellavano, fa terra bruciata di tutti quei territori e deporta poi l'intera comunità, l'intera comunità in Capitanata o in altre zone, lo sappiamo bene. Per cui i rapporti sono quelli, anche poi nelle varie leggi che fa Federico II, anche nel 1231, le Costituzioni, ma appunto chi uccide un cristiano è condannato a una multa di una certa cifra, chi uccide un islamico, un ebreo, eccetera, è condannato alla metà della pena. Quindi, in sostanza, non tutti valevano lo stesso. Quindi, appunto, questo per dire attenzione anche a non leggere male le fonti e a non farci poi spingere verso una mitizzazione eccessiva di Federico II e della sua rappresentazione, come dire, aperta, apertissima. Esatto. Poi aveva anche, mi corrego se sbaglio, ma aveva anche emesso un decreto, comunque una legge per cui gli ebrei dovevano portare un segno distintivo. Sì, quello assolutamente anche, gli ebrei dovevano portare un segno distintivo che appunto ci è ricordato quando ritorna in Italia meridionale, fa le assise di capo e lì ci viene raccontato da un altro cronista che viene imposta una legge per la quale gli ebrei devono, ma anche gli islamici, devono portare segni distintivi. Gli ebrei probabilmente devono portare una mantellina azzurda, ma sono anche difficile identificare certe cose, devono portare la barba come gli islamici, eccetera, eccetera, perché appunto non si possano confondere con i cristiani. Probabilmente obbedisce anche lì a una, appunto al concilio, appunto a una regolamentazione, a una decretale fatta dell'innocenzo terzo, appunto in cui si prevedeva assolutamente questo, perché le diverse culture non si possono confondere, però ecco, anche il fare questo significa che evidentemente sì, tolleranza per usare un termine improprio, che è illuministico, ma appunto sempre fino a un certo punto. Dobbiamo sempre contestualizzare correttamente le cose. Esatto. E a tal proposito, comunque noi abbiamo, se non sbaglio, dei documenti che attestano che, cioè sono delle lettere che Federico ha scritto a dei sapienti musulmani dall'altra parte del Mediterraneo, credo in Tunisia, o comunque nel Maghreb. Erano questioni però di filosofia, quindi non di religione. È vero che ha avuto dei contatti con dei musulmani, però alla fine si trattava di questioni filosofiche aristoteliche, sulla natura dell'anima, sull'eternità della materia. Esattamente, sono i cosiddetti quesiti siciliani, quei quesiti siciliani che però attenzione parlano soprattutto di fisica, ma anche naturalmente di teologia di fatto, e poi alla fine è uno degli ultimi, l'ultimo quesito che ci è stato trasmesso, di cui però noi possediamo solamente le risposte, quindi bisogna anche vedere quanto effettivamente è. L'ultimo quesito è proprio su una questione relativa al Corano, per cui di fatto è anche proprio religione pura, è religione che c'è interesse anche per quello, ma attenzione sempre a non distinguere troppo l'aspetto laico della filosofia con la religione, perché le due cose sono strettamente, strettissimamente connesse. La filosofia in quell'epoca era teologia, essenzialmente, e qualsiasi cosa parla di Dio. Già, è vero, è vero. Però, piccola curiosità, insomma, da quello che si sente, da quello che si capisce dalle risposte, le domande non dovevano essere proprio estremamente pertinenti, e le risposte sembrano, adesso anche qui bisogna vedere se quanto ci sia di vero e quanto no, però le risposte sembrano addirittura quasi infastidite dalla banalità, no? Eh sì, appunto, le risposte poi bisogna vedere, io non credo che avesse dato quelle risposte così violente, appunto, perché proprio nelle risposte, cioè, il Federico II viene trattato come un alfabeta, come appunto un idiota in qualche modo, come una persona che non capiva niente delle cose che chiedeva. Naturalmente non credo, e appunto un po' anche gli studiosi che si sono occupati di queste cose, naturalmente tendono a pensare che quella è una tradizione, diciamo, ritoccata dei quesiti, poi naturalmente bisogna vedere delle risposte e quesiti, poi naturalmente bisogna vedere se questi quesiti ci sono stati effettivamente, se le risposte sono state effettivamente quelle, e così via. Naturalmente, ecco, le fonti, come torniamo a dire quello che è il leitmotiv di questa giornata, le fonti vanno sempre correttamente interrogate, correttamente interpretate, correttamente quindi anche prese in considerazione. Certo, però adesso, dopo questa opera di demolizione che abbiamo fatto, va comunque detto che va riconosciuto il suo interesse verso la cultura, va riconosciuto il fatto che abbia fondato un'università, insomma non è cosa da poco, va riconosciuto l'aver scritto anche lui stesso dei trattati, per esempio quello sulla caccia col Falcone, che comunque è un tratto più unico che raro per i nobili del Medioevo. Quindi adesso non vogliamo, cioè voglio dire che non stiamo qui per dedicarlo assolutamente. Assolutamente no, questo è il principio fondamentale da cui bisogna partire. Federico II è stato un grande e non poteva non esserlo, del resto essendo stato un imperatore, ma un imperatore soprattutto consapevole del suo ruolo. Non tutti gli imperatori del Medioevo lo sono stati. È stato un imperatore estremamente consapevole del suo ruolo, un imperatore anche lungimirante, assolutamente. È appunto la fondazione dell'università, ma anche appunto la scuola poetica che nasce alla sua corte, la capacità di creare, la scuola poetica in volgare, la capacità poi di creare presso la sua cancelleria, presso la sua corte, una letteratura in latino che è eccezionale, che è assolutamente eccezionale, che è la cultura più alta del XIII secolo e che lascia tracce ancora per secoli, ancora fino all'età umanistica. Attenzione, poi appunto anche naturalmente tutti questi interessi che sicuramente ci furono, interessi filosofici, interessi appunto anche verso le altre culture, ricordiamoci che appunto nel suo ambiente, nella sua corte, tra virgolette, una corte ideale, come ho detto più volte, in quella corte ideale si fanno le traduzioni anche di Aristotele, che rivoluzionano assolutamente la cultura dell'epoca. Quindi assolutamente straordinario, personaggio assolutamente straordinario, The Art Verandicum Marcus, l'opera che scrive e che dichiara in maniera esplicita di aver scritto in un'epoca in cui l'autorialità era cosa rara, quindi l'autoconsapevolezza di fare un'opera scritta di propria mano, in cui afferma delle cose, è assolutamente straordinario. Quindi un personaggio eccezionale, ma proprio perché eccezionale non ha necessità, ribadisco, non c'è necessità di attribuirgli altre cose che appunto poi non sono sue, non c'è bisogno, anzi quelle altre cose che generalmente gli vengono attribuite, questi tratti esoterici, questi tratti misterici eccetera eccetera, non lo rendono più grande, assolutamente. Non lo rendono personaggio lungimirante o anticipatore dei tempi, anzi lo relegano negli altri più bui del medioevo e appunto quindi attenzione anche a certe rappresentazioni che possono essere rappresentazioni, lascio usare questa espressione di un medioevo di carta pesta che appunto innanzitutto non esiste, perché appunto sono creazioni fantastiche, ma dall'altro appunto queste rappresentazioni misteriche, queste rappresentazioni esoteriche sono proprio il nostro immaginario più becero del medioevo, quindi appunto di un medioevo che non esiste, di un medioevo fantastico, di un medioevo oscuro, fatto di magia, di occultismo e così via, che sono stupidaggini, appunto assoluto stupidaggini in buona parte, perché non si basano su nessuna fonte. Non solo, non solo, qui mi permetto, siamo entrati proprio a bombo nella domanda che sto per farle, quindi l'anticipate, mi permetto di dire che il concetto stesso di esoterismo è un concetto tutto moderno, nel senso che è nato con il rinascimento e poi si è sviluppato parallelamente con una volta che è nata la scienza vera e propria, perché se noi leggiamo e mi rifaccio a quello che ho accennato prima, leggiamo i testi medievali di fisica o di medicina, quelle cose che noi riterremmo esoteriche, tipo i quattro elementi o l'influsso degli astri, erano letteralmente materie di studio pubblica, cioè era veramente, parlo insomma, parlo dei testi ebraici però, penso sia lo stesso anche per quelli latini, testi medici, no? Si parla di quando somministrare un determinato farmaco sotto quell'influenza e non erano robe esoteriche riservate ai maghi o ad occulti, erano proprio quello che si studiava nelle università, proprio nelle… Assolutamente sì, anche perché noi poi tendiamo adesso da moderni a fare distinzioni tra astrologia e astronomia, per cui appunto l'influsso degli astri, no? Quasi come una cosa esoterica, eccetera, mentre invece quella era proprio l'espressione della volontà di Dio, appunto, quindi l'astronomia è esattamente la stessa cosa dell'astrologia, la fisica è connessa con la metafisica, ma come dire, come dicevamo prima, la teologia è tutto, perché la teologia è la descrizione della potenza di Dio e quindi anche la storia è teologia, è affermazione, anche la scrittura della storia, no? Le cronache sono affermazioni della potenza, narrazioni della potenza di Dio, dell'imperscrutabilità divina e quindi quando poi si vanno a vedere effettivamente queste cose esoteriche si afferma poi che queste cose naturalmente essendo esoteriche non le possiamo trovare da nessuna parte, perché se no non sarebbero più esoteriche. Ecco, quella appunto è proprio la rappresentazione più chiara dell'ignoranza totale di chi si occupa di queste cose, perché non contestualizza correttamente e quindi da interpretazioni moderne, interpretazioni a volte addirittura, ma neanche contemporanee, inesistenti a volte, perché poi anche l'esoterismo assume delle forme che non esistono da nessuna parte, insomma, ecco, sono cose da film piuttosto che da scienza, insomma, anche moderna, anche da studio, ecco, tutte quelle cose sono da rispingere risolutamente. Esatto, l'errore principale è quello che uno storico non farebbe mai, è quello di proiettare o di leggere il passato secondo categorie nostre, cioè attuali, è proprio la prima cosa che si impara a non fare, anche se penso che a volte possa anche sfuggire su qualche dettaglio, però esiste la revisione paritaria, per cui prima di venire pubblicata una nuova ipotesi, se quel manoscritto contiene quell'errore lo si fa notare prima che venga pubblicato, invece nell'esoterismo o negli libri esoterici non avviene tutto ciò, uno si alza una mattina, scrive quello che gli sembra di vedere e lo passa come ipotesi, quando poi in realtà non è basata su nulla. Assolutamente, questo appunto è anche una delle degenerazioni della diffusione anche dell'editoria, oramai si pubblica, si può pubblicare di tutto, ciascuno può pubblicare anche in casa, si scrive il suo libretto, il suo bel libro con board, se lo impagina come vuole, in maniera casalinga, se lo stampa, poi magari lo pubblica anche da qualche parte, lo mette in pdf, oppure se lo va a stampare nella tipografia sotto casa e ha fatto il libro. Dopodiché naturalmente non tutte le pubblicazioni sono importanti allo stesso modo, non tutti i libri hanno lo stesso livello di credibilità scientifica, non tutti gli studi sono fatti bene, naturalmente, non è che è una cosa perché viene detta da qualcuno e poi magari ti imbalza anche su qualche sito internet o addirittura che questa è la tragedia maggiore, in qualche programma televisivo che appunto fa dei misteri, credo che tutti quanti abbiano capito anche a che cosa mi riferisca, mi riferisca a chi mi riferisca, insomma, ecco, che fa dei misteri, la linea principale del proprio discorso, ecco, e quindi quelle cose poi una volta diffuse diventano la realtà, diventano la verità, lo studio, appunto, la ricerca è cosa seria, va fatta con gli adeguati strumenti, naturalmente bisogna poi anche essere capace di diffonderla, di divulgarla, ma un conto è la divulgazione scientifica, un altro conto sono le fandoni, ecco. La spettacolarizzazione della storia o la creazione di misteri o la creazione di domande che in realtà non ci sono. E oltre a Federico, come dicevo, c'è l'altro, oltre alla figura di Federico, l'altro oggetto di teorie pseudostoriche è il suo castello più famoso, Castel del Monte, che oltre ad apparire qui c'è anche sulla mononete da un centesimo, che, allora, prima diciamo, insomma, cosa è Castel del Monte, quindi effettivamente è stupendo, cioè capisco che possa attirare l'interesse, è anche un'architettura unica, quindi da un lato è comprensibile, ma non è giustificabile poi la creazione di teorie totalmente campatinari, per cui intanto comunque diciamo cosa è Castel del Monte, cosa sappiamo su Castel del Monte di documentato? Che cosa è Castel del Monte? Effettivamente l'abbiamo già detto, Castel del Monte è un monumento bellissimo, straordinario, e che appunto credo che pochi di quelli che stiamo seguendo, pochi ignorano, è davvero meraviglioso, naturalmente appare in maniera diversa, decisamente diversa da come doveva apparire all'epoca di Federico II, perché probabilmente all'epoca di Federico II neanche esisteva, o comunque appunto era in via di costruzione, o magari era ancora allo stadio di intelaiatura architettonica, però il progetto sicuramente doveva essere suo, questa pianta ottagonale insolita, decisamente insolita, meravigliosa, con ottagoni che si ripetono in più occasioni, appunto ogni volta, ogni stanza, appunto ogni angolo, eccetera, eccetera, su due piani, una cosa davvero eccezionale. Allora, è chiaro che posto lì anche su questa collinetta, appunto, Castel del Monte, appunto, e Santa Maria del Monte, questa che adesso appare una collina anche abbastanza isolata nel panorama della zona, ecco, quello naturalmente adesso non può che colpire l'immaginario di chiunque lo veda, perché è davvero eccezionale, è davvero straordinario, però all'epoca doveva essere qualcosa, doveva essere il mondo anche circostante, diciamo, la natura circostante doveva essere innanzitutto molto diversa e chissà come appariva, tra l'altro ecco, chi va a visitare Castel del Monte, nel suo interno vede che ci sono ancora i residui, di decorazioni in breccia rosa, quindi appunto in pietra rosacea, ci dovevano essere delle decorazioni anche scultore, che adesso non ci sono più, di cui abbiamo solo scarsi resti, ma non sappiamo neanche quando sono state fatte. Noi di Castel del Monte che documenti abbiamo? In verità abbiamo pochissimi documenti e se volete ve li faccio anche vedere, condivido anche alcune cose perché sono importanti, abbiamo detto partiamo sempre, non so se si vede, ma partiamo sempre dalle fonti, dai documenti, ecco faccio vedere, si vede? Sì, sì. Ecco faccio vedere, questo è il documento, diciamo, da cui poi parte tutto, tutte le discussioni più folli e più insensate che ci sono state nel corso anche, diciamo, dell'ultimo secolo, ma forse anche più. Allora, questo è il registro del 1239-1240 di Federico II. Abbiamo un resto straordinario perché appunto tutto il resto, tutta la restante produzione è andata persa. Questa è una copia di epoca, è più tarda, è una copia del registro Angioino del 1239-1240, del registro Federiciano fatti in epoca Angioino, del registro del 1239-1240. E qui appunto, ecco, se riuscite a vedere la parola, questo è il documento, questo centrale, c'è qui questa parola che forse riuscite a vedere, indico con il mouse, con la freccetta del mouse, non so se riuscite a vedere. Legge molto chiaramente, Actractum. E qui appunto, ecco, è un documento che appunto, se volete poi, possiamo anche, posso anche farvi vedere nell'edizione più recente, nell'edizione più recente di Cristina Carbonetti, che potete, del registro appunto di Federico II. Siamo, è un documento del 29 gennaio 1240 perché c'è la datazione precisa e appunto è il documento con cui Federico II dà ordine, dà mandato, dà mandato a, appunto, al, lo dice anche chiaramente, appunto al giustiziere di Capitanata, Riccardo de Montefuscolo, nonostante non sia la sua giurisdizione, ecco, gli viene ordinato di accogliere, appunto, rapidamente, seduta stante, instante, subito, l'Actractum. Lo vedete qui, l'Actractum. Che cos'è questa Actractum? E possiamo anche interrompere la condivisione perché credo di avervi fatto vedere. Che cos'è questa Actractum? O attractum e così via. E vi faccio vedere anche, appunto, è un termine, è termine anche non particolarmente insolito, però naturalmente bisogna conoscere la terminologia precisa usata all'epoca. Quando lo pubblicò per la, una delle prime volte, quando, una delle prime volte fu pubblicato questo documento, nel, appunto, nell'Ottocento, da uno studioso insigne che si chiamava Jean-Louis Alfonso Iyarbreol, e poi a lui, purtroppo, si deve l'origine di tutto il misfatto perché non capì che cosa significava il tractum, nonostante fosse termine già indicato, già registrato nei dizionari, nei vocabolari del latino medievale, nel Ducange che è settecentesco, quindi ci metteva poco anche a guardare. Che cosa significava? Ecco, pensò che fosse astricum innanzitutto e quindi che ci fosse l'astrico che fosse, appunto, che fosse già compiuto e che quindi bisognava fare semplicemente la copertura finale, no? Il terrazzo, il terrazzamento del castello. In verità, appunto, actractum significa un'altra cosa, è il materiale di costruzione, sono le cose che devono essere portate, traere, no? Dal verbo trao, latino, le cose che devono essere portate, il materiale da costruzione che serve. Adesso serviva quel materiale di costruzione per iniziare il castello, per completarlo, per portarlo avanti? Non lo possiamo dire, però di sicuro, ecco, quello è uno dei primi problemi da cui parte tutto. Federico II probabilmente nel 1240 dà semplicemente l'ordine di iniziarlo e probabilmente neanche lo vede finito e quindi la connessione poi con Federico II, con la sua progettualità addirittura architettonica, è così un grande Federico II che può aver anche progettato architettonicamente una costruzione complessa e naturalmente poi come l'ha progettato? Naturalmente lo deve aver progettato secondo tutte quelle idee esoteriche, no? Di cui abbiamo parlato prima, quindi l'ottagono, il significato dell'ottagono, eccetera. Ecco, tutte queste sciocchezze, ve lo faccio vedere, no? Tutte queste sciocchezze sono poi contraddette da questo libro importante di Massimiliano Ambroso, lo faccio vedere perché appunto Castel del Monte, la storia e il mito, che poi riorganizza in qualche modo anche un lavoro precedente che è questo, Castel del Monte, lo faccio vedere, manuale storico di sopravvivenza perché, insomma, ecco, su Castel del Monte veramente se ne sono dette tante la fantasia più sfrenata degli pseudostudiosi lì si è scatenata. Allora e quindi si è cominciato a immaginare che Castel del Monte avesse un significato, una valenza simbolica straordinaria, attenzione che ha, ha una valenza straordinaria dal punto di vista simbolico, ma non dal punto di vista esoterico. Simbolismo è cosa? Simbolicità, simbolo è nel Medioevo qualcosa di assolutamente diverso dall'esoterismo. Il simbolo è la manifestazione di quello, la manifestazione visibile di quello che non si vede. Questa è la definizione che viene data nel Medioevo, ma è soprattutto la rappresentazione poi della potenza di Dio in qualche modo. Adesso l'ottagono, capiamo subito e sgombriamo il campo, l'ottagono è una figura geometrica straordinaria innanzitutto, diciamo è il raddoppiamento del quadrato, i due quadrati che si intersecano e anche un simbolo, abbiamo detto il simbolo tradizionalmente nel Medioevo della Gerusalemme celeste, quindi anche del paradiso, dei cieli e così via. Ricordiamo che la famosa corona ferrea imperiale ha quella forma, questo non vuol dire che ci sia un significato nascosto in quello, anzi proprio quella forma viene manifestata chiaramente, quindi non c'è niente da nascondere, perché è la rappresentazione dell'unione tra la terra e il cielo, tra il potere terreno e il potere divino. Questo è il significato puro e semplice, manifesto dell'oggetto, del simbolo, della figura geometrica, non ha altri significati reconditi. Cassel del Monte non si trova a metà strada tra la catterale di Chartres e Gerusalemme o le piramidi di Giza, non mi ricordo che cosa sono andati a inventarsi, non aveva una mamma al suo interno, non aveva una cupola d'oro, sono tutti sogni, evidentemente qualcuno che non ha ben digerito la sera, ecco si è fatto questi sogni straordinari, ecco si è inventato tutte queste cose su Cassel del Monte che non esistono assolutamente, ecco anche quello quindi è un oggetto che va guardato nella giusta dimensione, dalla giusta prospettiva, è un oggetto architettonico straordinario che appunto poi ha una funzione anche simbolica abbiamo detto, oltre al simbolo della figura e il simbolo appunto anche del potere imperiale in quel momento e la rappresentazione come dire è un'insegna di potere per usare un termine che poi viene usato nell'astrografia tedesca, Schramm ha usato e ha diffuso questo termine che poi viene diffuso, un'insegna di potere perché è qualcosa che appunto come una moneta, prima avevamo parlato, aveva fatto riferimento alla monetina da un centesimo, Federico II crea anche l'austale d'oro, una moneta d'oro che dopo tanti secoli viene riprodotta e coniata in maniera originale da un imperatore. Ecco le monete, gli scettri, le corone e anche i castelli ma potrei dire anche appunto un manifesto imperiale che è scritto in una maniera complessa, in una maniera ricercatissima eccetera, tutte quelle cose sono insegne di potere, insegne che servono a rappresentare la grandezza di un imperatore che era il vertice del mondo e quindi appunto ha una valenza simbolica importante ma non dimentichiamo che poi anche una valenza di dominio in qualche modo e di controllo del territorio perché si trova ovviamente su una rete all'incrocio di una rete stradale che all'epoca era battuta, no? Adesso è abbastanza isolata e ci passano strade secondarie ma non era così nel medioevo all'epoca, nel 200, nel 300, lo sappiamo per tutte le fonti, tutte le fonti che ce ne parlano, anche nel 300 noi abbiamo poche narrazioni dell'epoca però ce n'è una importante che appartiene a quella zona, Domenico di Gravina, che ci dà tutta una serie di informazioni anche sull'uso militare che veniva fatto nel 300 all'epoca della regina Giovanna e dell'invasione degli ungheresi eccetera, l'uso militare che veniva fatto di quel castello che aveva una valenza di regge in qualche modo, naturalmente un castello, un castrum che all'epoca ha anche un valore di residenza, però è sempre un castrum che ha quindi poi doveva essere a seconda delle epoche, abbiamo detto all'epoca di Federico II non è detto che fosse completato, all'epoca di Manfredi probabilmente sì, all'epoca di Carlo I sicuramente sì, perché lo sappiamo che all'epoca di Carlo I era appunto finito, perché lì ci vanno a imprigionare, vengono imprigionati i figli di Manfredi, i figli di cui nessuno ha più memoria, i figli di Manfredi di Svedia, figlio di Federico II, ha morto sul campo di battaglia a Benevento nel 1266, ecco, i figli di Manfredi erano pericolosi, non li si poteva ammazzare facilmente, Carlo I commise un errore politico strategico enorme quando fece decapitare Corradino, il nipote di Federico II nel 1268 sconfitto a Tagliacozzo, fa un errore strategico importante, invece i figli di Manfredi li fa sparire semplicemente, spariscono dalla memoria, Corradino non sparisce dalla memoria, i figli di Manfredi spariscono dalla memoria e dove li fa imprigionare? Secondo voi li fa imprigionare anche a Castel del Monte, quindi viene usato, Castel del Monte viene usato nel corso della storia come carcere, come castello, come caserma, ecco cambia la fisionomia e usato sicuramente anche poi come regge e come dimora, regge. Tra l'altro, volevo fare un piccolo esempio di quello che si dice, perché magari chi sta seguendo non sa tutto quello che si è detto anche male su Castel del Monte, faccio un esempio, una delle cose che si dicono spesso è che non era un castello di caccia, non poteva essere un castello di caccia perché non ci sono le cucine, però poi lo stesso libro ti dice, però ci sono cinque camini che formano, allora è un esempio classico di come se si è deciso di vedere o di non vedere una cosa, poi si è già partiti prevenuti con una certa ipotesi, poi si scartano anche inconsciamente, perché non metto in dubbio, però si scartano anche contro quello che si vuole dimostrare, cioè ci sono le prove e lo riconoscono che ci sono cinque camini, però allo stesso tempo si diceva che non c'erano le cucine. Certo, servivano la Scavolini, quella di sicuro non c'era, non ci poteva essere la cucina, ecco appunto i camini anche a quello servivano e poi quelli che c'erano, che sicuramente abbiamo notizia del fatto che comunque almeno delle guarnigioni c'erano, da qualche parte avranno dovuto mangiare, da qualche parte ci avranno dovuto cucinare, poi ecco, rammentiamo, noi lo vediamo così, ma attorno al castello ci dovevano essere anche tutta una serie di protezioni, anche edifici probabilmente effimeri, perché a un certo punto, appunto anche lo racconta lo racconta Domenico di Gravina, lì in un certo momento ci sono centinaia di soldati che stazionano in quel castello e dove ci sono, dove possono stare? E poi c'erano gli animali, vengono accolti all'interno del castello, anche gli animali, ecco all'interno del castello, che vuol dire all'interno dell'ottagono, all'interno delle protezioni che stavano attorno al castello e che adesso non vediamo più, perché sono andate perse, sono andate distrutte, questo è il discorso, che probabilmente erano protezioni anche effimere, potevano essere fatte di legno, potevano essere fatte di piante, di alberi, eccetera, ma soprattutto di palizzate di legno e lo ricordo anche Foggia, ad esempio Federico secondo un certo punto decide di abbattere Manfredi e così via, nel corso della storia ogni tanto capita, vengono fatte abbattere le mura di Foggia, poi si va a vedere ma quali mura ha abbattuto? Sono appunto probabilmente le protezioni esterne delle mura, non vengono abbattute completamente le mura, non vengono fatte brecce probabilmente nella muratura, ma vengono abbattute, vengono distrutte le protezioni esterne, quelle magari che servivano a proteggere, ad allargare anche le mura cittadine e la stessa cosa probabilmente anche per Castel del Monte, appunto ci devono essere tutta una serie di fortificazioni più o meno effimere, più o meno stabili se volete, a tutto attorno. Quindi di fatto era un castello a tutti gli effetti e anche qui voglio un attimo attirare l'attenzione su una cosa, si parla di, è chiamato castrum, castello, ma nelle fonti dell'epoca, e faccio vedere anche questa edizione importante, perché è quella di Stammer che per fortuna è stata poi anche tradotta in italiano, tradotta in italiano da due specialisti di fatto, tradotta in italiano da Francesco Panarelli che è mio collega e mi fa piacere all'Università della Basilicata e mi fa piacere, mi fa piacere anche ricordarlo, ma poi curato da Ubertuben, prefazione e cura di Ubertuben, quindi ci sono degli specialisti che hanno fatto la traduzione italiana di questo libro importantissimo. Ecco, appunto, se si va a vedere appunto lo statutum di reparazione castrorum oppure le altre fonti che parlano dei castelli, ecco, gli stessi castelli, gli stessi edifici a volte vengono identificati come castrum, a volte come domus, altre volte come castella e così via, insomma cambiano le definizioni, cambiano le denominazioni, perché appunto a volte no, c'è innanzitutto non è necessario che ogni parola debba corrispondere precisamente a un nostro concetto, a una nostra idea, a una nostra tradizione specifica, ma anche perché tutti quei castelli, tutti quegli edifici avevano allo stesso tempo diverse funzioni, quello di difesa, quello appunto di residenza, quello appunto anche simbolico di rappresentazione del potere e poi naturalmente quello artistico, quello architettonico e così via. Ci sono tanti livelli di interpretazione, dobbiamo stare attenti a non aggiungerne altri che non esistono. Perfetto, e se proprio dovessimo aggiungerli dovrebbero avere un appoggio su un documento dell'epoca correttamente interpretato, quindi finché non si troverà qualcosa di nuovo credo che... Allora, guardi, siamo riusciti a stare nei tempi perfettamente, l'unica cosa che non abbiamo saltato della scaletta è giusto un brevissimo cenno al fatto che due degli appellativi di Federico II come Stupor Mundi e Puer Apulie, che sono almeno correntemente usati come se fossero dei complimenti verso Federico II, mi risulta che in realtà all'epoca non erano esattamente dei complimenti. Conferma? Assolutamente no, insomma. Se ci sono dei pugliesi che vedono, insomma, si sentiranno un po' traditi, e come diceva l'amico, compianto amico Raffaele Licinio, che anche poi al Cassel del Monte e a controbattere tutte le fandonie che si dicono, che si dicevano, ha dedicato la vita, soprattutto poi gli ultimi anni della sua cazziera, in qualche modo. Ecco, allora, come dice da qualche parte in una prefazione, Raffaele Licinio racconta di una persona che dopo aver sentito una sua lezione, una sua conferenza, dice professore lei mi ha fatto crollare un mito e questo è uno dei vari miti che vengono creati e che vengono generati. Allora, Puer Apulie non significa fanciullo della regione Puglia, non c'entra niente. La Apulia è uno dei modi, Apulia è uno dei modi per definire il regno dell'Italia meridionale, regno di Sicilia, regno Sicilie, Sicilia, Apulia e così via, è sempre la stessa cosa. Tra l'altro ancora alla fine del Quattrocento lo ricordava chiaramente Pandolfo Colvenuccio, il primo storico del regno di Napoli, tra il 1498 e il 1504 scrive quest'opera molto contestata anche all'epoca, il regno di Napoli che viene chiamato anche regno di Sicilia e regno di Puglia, che quella è la definizione. Allora Puer Apulie era un appellativo che fu coniato all'epoca del fanciullo Federico quando salì in Germania a rivendicare lo scettro imperiale contro Ottone IV, era effettivamente un fanciullo, un Puer e così viene definito dai cronisti tedeschi. Puer Apulie, ma non per dire viene dalla Puglia perché Federico II in Puglia non c'era ancora, ma è stato. Era il fanciullo che veniva dall'Italia meridionale, come dire, soterroncello che viene dall'Italia meridionale, che viene qui in Germania a combattere contro il vero imperatore Ottone IV eccetera. Quindi non è un appellativo positivo, è stato inventato tra l'altro, ha continuato, ha cominciato a girare e viene adesso usato come appellativo per definire Federico II a partire dal 1950 all'incirca, quindi ha un'origine recentissima appunto quando Antonino De Stefano ci dedicò un articolo eccetera, ma per dedicarlo poi ai pugliesi in qualche modo, per omaggiare i pugliesi perché era venuto a fare un convegno lì e Puer Apulie però appunto sapendo poi perfettamente però che non era assolutamente un appellativo positivo, lo sapeva perfettamente perché fa tutta la storia dell'appellativo anche. E poi ecco invece Stupor Mundi e Timutator Mirabilis, Stupor Mundi abbiamo detto è un appellativo che abbiamo usato da Matteo Paris, Matteo Paris, Matteo di Parigi come lo vogliamo chiamare, che è un cronista importante ma usa esattamente la stessa definizione, Stupor Mundi e Timutator Mirabilis anche per Papa Innocenzo III. Quindi di sicuro Federico II non ha l'esclusiva primo. Dopodiché appunto questa definizione Stupor Mundi, lo stupore e l'immutatio naziorerum, la trasformazione delle cose in un mondo medievale, la teologia medievale in cui naturalmente, a cui abbiamo già fatto qualche accenno, in cui ogni cosa è preordinata da Dio, ogni cosa è creata da Dio e ha una sua linea, chi crea stupore, chi vuole mutare le cose si pone contro Dio, contro l'ordine prestabilito e quindi di sicuro non era un complimento che gli si stava facendo, è colui che ha voluto rivoluzionare le cose ma non è un rivoluzionario come in chiave illuministica secondo quella definizione. E anche questa è la definizione appunto di un monaco, un monaco coevo che ci dà tante informazioni importanti, se Federico II è quello che ricordate che dice anche che si fa ammettere che Federico II è in punto di morte e indossa il saglio. Allora bisogna anche vedere tutte le cose, le interpretazioni bisogna darle correttamente, bisogna leggere attentamente le fonti. Anche questo Stupor Mundi, un altro appellativo nato nel novecento per identificare Federico II, una cosa recentissima, ma di questo appunto ho già parlato in altre occasioni, quindi non la parliamo ulteriormente. Va bene, allora, intanto la ringrazio e faccio i saluti proprio velocissimi a Giovanni Cervino, Melania Lamboglia, Giulia Crespi, a Hub Kursdienz che ci saluta dai pochi grassi. Sì, eh sì. Se c'è qualcuno che vuole fare domande, fa qualche minuto. Infatti, allora saluto anche Berenice Marino che è arrivata dopo, quando ormai era già iniziato, e poi Giulia Crespi, infatti. Vabbè, saluto anche Anatum che vabbè ha fatto un commento scherzoso, non lo intende sul serio quello che ha scritto. Ha detto sono stati gli Elohim a costruire il castello. Sta scherzando, lo conosco, non ho scettico. Allora, niente, però c'è una domanda, in effetti. Ah, c'è una sine nomine che deve essere o un suo studente, o una sua studente, o perché, che le dice grandissimo prof. Il fatto che sia un nome latino presumo che sia... Io ho anche individuato il nome. Saluto anche Michael. Allora, la domanda di Giulia Crespi è questa. Sono arrivata dopo l'inizio dell'intervento. Chiedo se è realtà storica quella degli esperimenti sul linguaggio originario dei bambini. sul linguaggio originario. Allora, questa è una cosa che racconta un cronista che sicuramente non era un amico di Federico II, un fotore di Federico II, che si chiama Salimbene de Adam di Parma, che contemporaneo di Federico II racconta anche di averlo visto una volta quando venne in Italia settentrionale, eccetera. Era una cosa che era d'accordo. Scrive, scrisse questo Salimbene un'opera che si chiama Le dodici scelleratezze, diciamo direttamente alle dodici scelleratezze di Federico II, in cui elencava dodici cose folli. Quest'opera è andata persa, non la possediamo più. Possediamo invece la cronaca, in cui fa un riassunto anche di queste dodici scelleratezze. Una di queste era anche il fatto che per sperimentare quale lingua fosse nata per prima e dice se il latino, il greco o l'ebraico, decise, fece rinchiudere dei bambini appena nati, li fece isolare e in maniera tale che nessuno potesse poi influenzare con la prima parlata la lingua dei bambini. L'esperimento andò fallito perché i bambini morirono ben presto e quindi non si sa, non ebbe frutto l'esperimento. Ecco però Salim Benede Adam era un personaggio naturalmente che voleva creare, un personaggio che intendeva creare, un autore che intendeva creare, un cronista che intendeva creare un'aura negativa per Federico II. Quindi inventa anche tutta una serie di cose assolutamente fantastiche. Ci racconta anche un'altra storiella che Federico II ha sempre preso da questo spirito sperimentale. Vole vedere per capire se digeriva più velocemente una persona che dopo pranzo era andata a passeggiare o la persona che dopo pranzo era andata a dormire. Ecco, fece fare questo esperimento, uno lo mandò a passeggiare, un altro lo fece dormire e dopo naturalmente li squartò per vedere chi aveva digerito prima e scoprì in quel caso che aveva digerito meglio il prima quello che era andato a passeggiare. Questo diciamo l'avremmo potuto scoprire anche senza bisogno di queste cose così macabre, così sanguinose. Ecco, e c'è una descrizione appunto sistematicamente orientata in questa direzione di Salimbene che però appunto è anche particolarmente velenoso perché poi a un certo punto quando fa il medaglione finale di Federico II come si usava nelle cronache dell'epoca ci dice Federico II era un personaggio eccezionale, sapeva parlare in diverse lingue, sapeva fare anche poesie, sapeva questo, sapeva fare quest'altro. Se solo fosse stato un buon cristiano, se solo fosse stato un buon cristiano sarebbe stato un eccelso sovrano, non lo fu perché non fu un buon cristiano e all'epoca appunto dire di una persona che non era stato un buon cristiano, ecco, significava atterrarlo definitivamente. Quindi spero che abbia in maniera chiara. Sì, sì, infatti Giulia Crespi ringrazia per la risposta alla sua domanda, ringrazia anche Maria Dezio, la ringrazia, è molto interessante, davvero interessante. Poi c'è una domanda di Francesco Canepa, secondo me ci vuole uno specialista, adesso gliela dico, però... Allora, salve, scusi, volevo chiedere una cosa che penso sia interessante per tutti. Nel trattato sulla falconeria è presente un cacatua, un pappagallo australiano, si sa qualcosa riguardo? Grazie. Allora, sì, effettivamente non ha rappresentazione che è quella del cacatua, di fatto che è un pappagallino bianco, eccetera, e quello mi pare, con la coda gialla, eccetera, è abbastanza inequivocabile. Però il discorso è questo, ecco, qualcuno anche di recente, mi pare, uno o due anni fa ha fatto un articolo, ecco, si parlava poi degli articoli scientifici che vengono sottoposti a revisione tra pari e così che, ecco, quell'articolo scientifico evidentemente era stato pubblicato, ma senza revisione, o comunque i pari, gli studiosi che avevano guardato, che avevano esaminato e approvato quest'articolo non erano veramente, non erano veri studiosi e non erano esperti, perché si inventarono questa cosa che Federico II aveva avuto rapporti, anzi, più che Federico II, il sultano che sappiamo regalò a Federico II questi uccelli, questo pappagallo, anche i musulmani erano arrivati fino in Australia, perché il cacatua sta lì, adesso è solamente lì, ma adesso è solamente lì, ecco, non vuol dire che in passato, che otto secoli fa non fossero anche altrove e non è detto che appunto poi, no, ci fossero rapporti strettissimi tra il mondo islamico e anche l'Australia, ecco, arrivavano a dire che di fatto, no, i musulmani appunto dell'epoca avevano già, appunto, l'islam dell'epoca aveva già scoperto l'Australia, ecco, dire una cosa del genere che equivale un po' come a dire che il Castel del Monte appunto è stato, e c'è stato anche chi ha detto questo, è che il Castel del Monte è stato costruito, è stato costruito dai marziani, c'è stato anche chi ha detto questo, e attenzione, adesso ci ridiamo, ma c'è qualcuno che l'ha detto sul serio, ecco. Mamma mia, questa mi mancava, devo dire che questa, allora, non c'è mai limite alla fantasia, ma allora Rose ringrazia, allora Dario Chiacchio chiede se si può suggerire un libro su tutti, che inquadri la storia e le varie ipotesi sul Castel del Monte, l'abbiamo già mostrato. Lo suggerite, lo facciamo ripetere, questo è Massimo Ambroso, lo facciamo vedere, se lo riuscite a vedere, ecco. Allora. È importante, qui si fa tutto il quadro della situazione, faccio un brevissimo cenno, anche io nel libro, però appunto qui è un intero libro dedicato a smontare appunto tutte queste idee folli. Perfetto, Rose dice che belle queste chicche che ci vengono regalate in tempo reale, molto interessanti, saluto Pier Felice Contrufelli che dice non dai marziani, dagli Elohim, non disinformate, sono indignato, quindi ci dispiace per l'indignazione di Pier Felice che saluta è un amico. Bene, quindi Dario Chiacchio pure ringrazia per la risposta, quindi se non ci sono altre domande, io la ringrazio davvero tanto per questo intervento, per aver fatto un po' di chiarezza tra storia e pseudostoria su Federico II e su Castel del Monte, poi magari metterò i riferimenti bibliografici in descrizione del video. Ecco, quello che abbiamo detto su Federico II, giusto? Sommacchiosa, no? Naccoma vale in termini assoluti e in termini generali. Perfetto, le fonti, la storia si fa innanzitutto sulle fonti, sullo studio attento delle fonti, le fonti che altrimenti o ci parlano male o ci dicono cose sbagliate o non le riusciamo neanche più a sentire o a leggere. Ci sono, ecco adesso magari passo per il settario eccetera, ma le università servono apposta a questo, a formare studiosi. L'università forma gli studiosi, forma gli storici, non la strada. Tutti pensano di essere storici, appunto ci sono tanti che si fingono a questo, e parlo di storici, ma possiamo dire anche tanti, permettetemi di dirlo, si inventano anche poeti pensando che appunto per fare la poesia basti dire un bel concetto e fare qualche dima così, ma appunto i versi li fanno anche gli animali, insomma, ecco, attenzione, non li fanno solo i poeti, quindi attenzione anche a quello, c'è bisogno di conoscenze, appunto specifiche, conoscenze approfondite, se no appunto non si fa poesia si fa qualcosa che non è nulla, così come la storia ha bisogno di regole precise, di un metodo preciso, non voglio arrivare a dire che è una scienza, perché di sicuro non è una scienza esatta, ma è una scienza umana, ma possiamo dire che comunque è una scienza nel senso, come dire, alto del termine, ovvero nessuno si può inventare le cose da dire, nessuno si può inventare interpretazioni folli di quello che si legge, interpretazioni inadeguate, inattuali, basate sul nulla. Questo deve essere chiaro, chiarissimo, non basta scrivere un libro di pseudostoria per dirsi storico, lo storico è un'altra cosa, così come non basta pubblicare un libro per fare l'edizione sgrammaticata, magari scorretta di un testo per diventare filologi, non basta scrivere un libro di poesiole per dirsi poeta e così via, insomma, non basta prendere un bisturi in mano per dirsi chirurgo, questo tanto per farci comprendere, uno che usa male un bisturi diventa un macellaio e nessuno si farebbe di operare mai da uno che non ha studiato medicina, chissà perché però appunto si attribuisce, si tende a concedere la patente di storico magari anche a chi non sa nulla di storia, ecco chissà perché, forse perché non si ammazza nessuno, almeno fisicamente, però si ammazza la memoria, che è molto peggio. Allora, recupero i saluti, Rose dice prof continui così, saluto Roberto Sallustio, che piacere ascoltarvi, interessantissimo, grazie Roberto, Beppe Pezzoli, bellissima lezione, grazie, poi sì, vabbè Pierfelice Cutrufelli, non basta una traduzione interlineare per dirsi traduttori, lui ha un riferimento a… va bene, professore grazie mille. Ringrazio per l'ospitalità, ringrazio per la chiacchierata, ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare questa ora e venti di chiacchierata, insomma ecco davvero, sono contento di partecipare anche a queste iniziative che servono, sperando che possano servire anche a fare chiarezza, non solo su argomenti specifici, ma anche sui corretti metodi da usare. Salutiamo anche… no scusi, salutiamo anche quelli che seguiranno il video dopo la diretta, perché questo video sarà sempre visibile, quindi lo dico, se volete condividerlo, chi pensate possa essere interessato a queste cose, soprattutto a chi crede a certe teorie pseudostoriche. Bene, grazie a tutti, grazie ancora professore, buona serata. E buona serata a tutti. Buona serata.